la situazione di PQ La situazione di PQ Historica in PQ i pesciati sempre studiano molto il substrato il fenigiliano che è il substrato metabologico tóxico per il cervello E una cosa interessante in questa nuova studia, che stiamo approcciando su tyrosine, è che tyrosine non è solo un prodotto di hydrosilazione di fenomeno, ma è anche un altro substrato per altre moleculi, inoltre hormoni e neurotransmittersi. In questo modo di pensare, da un punto di vista metabolico, il studio e il monitoramento di tyrosine in PKU potrebbe avere un rolio davvero importante per il seguimento dei nostri pazienti. Tyrosine, in questo nuovo modo di pensare in PKU, potrebbe essere un nuovo marker, per essere seguito nel monitoramento biochemico dei nostri pazienti. E anche il ratio fenomeno-tyrosine in questo modo di pensare, potrebbe diventare un marker molto importante per il seguimento dei pazienti di PKU. Grazie. 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 Grazie.